e in base ai bilanci che faremo, i budget che faremo già da quest'anno pensiamo di essere presenti già l'anno prossimo sul mercato. Presidente, i punti di forza e le cose da migliorare? Allora il nostro punto di forza, proprio perché siamo un'azienda snella che è cresciuta in fretta e la flessibilità e quindi la capacità di adeguarsi alle richieste del mercato in brevissimo tempo anche perché siamo dotati di un nostro ufficio tecnico quindi molti degli impianti e molte delle tecnologie sono state sviluppate proprio all'interno. I nostri punti deboli adesso sono un po' l'organizzazione del personale perché appunto ci troviamo a gestire una quindicina di impianti in diverse regioni dell'Italia e in più la razionalizzazione dei prodotti perché il fatto di avere unito le produzioni di due gruppi che avevano presso poco la stessa tipo di clientela ci costringerà logicamente a concentrare le produzioni in certi siti e quindi razionalizzare la produzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dottoressa Sabrina Bozzola consigliere delegato e direttrice delle risorse umane come sceglie i suoi collaboratori? Di norma scegliamo i nostri collaboratori all'interno della nostra società cioè facciamo uno screening delle competenze che hanno i nostri collaboratori e delle potenzialità che riteniamo che possano avere e promuoviamo quindi delle persone che già lavorano per la nostra azienda a ruoli di più alta responsabilità. Ecco questo ha chiaramente un grosso impatto motivazionale all'interno del nostro gruppo e le persone diciamo che sono molto più orientate all'obiettivo. Ecco se invece cerchiamo una professionalità che magari non è presente in azienda e allora ci rivolgiamo alle società esterne, ricerca e selezione del personale. Il personale compie formazione periodica e si si di che tipo? Sì, noi facciamo dei corsi di formazione sia interne che esterne, il nostro personale interne soprattutto a livello tecnico perché abbiamo sviluppato una tecnologia di trattamento di minerari nostra e quindi anche le persone tipo ingegneri minerari o periti minerari che escono dalle scuole spesso non sono formati su tutte le tecnologie che noi applichiamo e all'esterno invece ci rivolgiamo alle scuole di formazione, percorsi gestionali piuttosto che di lingue, anche adesso che stiamo puntando sull'estero o amministrativi. Quanto è importante per voi la ricerca e quanto spazio date ai nuovi progetti? La ricerca per noi è fondamentale appunto perché come dicevo prima nel corso degli anni abbiamo sviluppato queste tecnologie di trattamento dei minerali in collaborazione con i politecnici, con le università sia italiane che estere. Quindi noi diciamo che mediamente investiamo il 10% di fatturato annuo in progetti nuovi e in ricerca perché solo con la ricerca possiamo garantire il futuro della nostra azienda. Qual è la ricaduta occupazionale della vostra società? A quante persone date lavoro tra dipendenti diretti e collaboratori? Mai complessivamente tra dipendenti diretti e collaboratori, se pensiamo a gruppo Minerali e gruppo Maffei, sono circa 600 unità, 400 dipendenti diretti e 200 collaboratori. Poi ci sono tanti altri fornitori che sono un po' più spot, a cui mi riferisco a rapporti di collaborazione abbastanza stabili. Qual è stato il contributo delle donne all'impresa? Dunque il settore minerale non è propriamente un settore femminile. Comunque per noi il contributo delle donne è importante soprattutto nei settori amministrativo e gestionale. Cosa dovrebbe fare secondo lei un manager che volesse creare intorno a sé un gruppo di talenti? Dunque secondo noi è molto importante creare delle squadre di lavoro perché individualmente difficilmente si riescono a raggiungere gli obiettivi. Per fare questo noi puntiamo molto sulla delega e secondo noi un manager e l'imprenditore deve riuscire veramente a delegare e creare dei gruppi di lavoro autonomi. Autonomi 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 Qual è all'incirca il fatturato dell'azienda? Il fatturato del 2006 del gruppo Minerali Piuma Fei è stato di 106 milioni di euro con una quantità di materie prime vendute di 3 milioni di tonnellate e un'ebidda di 16 milioni di euro. Prevediamo per il 2007 un incremento per gruppo Minerali di circa il 15% e per Maffei un andamento costante. Direttore come giudica la concorrenza? La concorrenza nel nostro settore come negli altri settori immagino è abbastanza guerrita. I nostri principali concorrenti sono soprattutto società straniere che sono ubicate in Turchia e in Ucraina. Infatti oggi con la globalizzazione è possibile spostare grosse quantità di materie prime a dei costi abbastanza bassi. I nostri concorrenti stranieri oggi sono in una situazione favorevole perché la debolezza del dollaro favorisce l'acquisto di materie prime dall'estero. Però noi grazie alla nostra ricerca, alla nostra costanza, alla qualità dei nostri prodotti riusciamo a continuare le nostre forniture e ad incrementare le nostre vendite. Quale secondo lei è un pregio che un imprenditore deve avere assolutamente? L'imprenditore deve cogliere le opportunità che offre il mercato investendo pesantemente in ricerca e sviluppo in quanto questo è l'unico modo per dare un futuro alla propria attività. C'è un progetto futuro del quale vuole parlarci? Come gruppo Minerali stiamo sviluppando anche il concetto del risparmio energetico in modo pesante in quanto logicamente la nostra attività richiede un contributo notevole di energia sia dal punto di vista termico che dal punto di vista elettrico. E quindi il nostro progetto è agire in questa direzione razionalizzando i consumi pensando a tecnologie innovative che permettono questi risparmi energetici. Questa puntata di De Besso Vitali interamente dedicata a gruppo Minerali si conclude qui. Da Cacciano è tutto, l'appuntamento è ogni mercoledì e ogni domenica dalle 20 alle 20.30 su Roma Sat e Lazio Channel. Questa puntata di De Besso Vitali interesse. Questa puntata di De Besso Nat效 e候icami sono stati più diverse dalle 21 alle 22.30 su Roma Sat e Lazio China. Grazie a tutti